Dal prossimo anno scolastico, l'Istituto Leonardo da Vinci di Martina Franca aprirà le porte al Liceo Artistico Statale. Arti figurative, audiovisivo e multimediale, architetture e ambiente, design. Finalmente Martina Franca e il territorio della Valeditria, scrigno di tesori artistici e di tradizioni storiche, hanno l'opportunità di formare giovani professionisti, conoscitori del patrimonio artistico. All'interno dell'Istituto, per far vivere e sperimentare le conoscenze relative ai vari ambiti, sono presenti numerosi laboratori. Tecnologico, linguistico, turistico, economico, socio-sanitario, paesaggistico-ambientale, grafico-pubblicitario, logistica e trasporti. Open Days 12, 19, 26 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12 e 30. Open Labs 15 e 23 gennaio, dalle ore 15 e 30 alle ore 18.